La decisione di Mattarella per uscire dallo stallo politico. Il voto in corso in Molise potrebbe cambiare gli equilibri. Gli antagonisti italiani contro la polizia francese a Monginevro, dove gli estremisti di destra d'oltrealpe avevano retto barricate contro i migranti. Sanaa, la ragazza di Brescia, che sarebbe stata uccisa da padre e fratello in Pakistan per aver rifiutato un matrimonio combinato, i due sono stati liberati. Il processo sulla trattativa Stato-Mafia, il PM di Matteo accusa silenzio assordante da CSM a NM, che risponde sempre difeso all'autonomia. In un istituto tecnico di Lecce, umiliato e picchiato dai bulli un 17enne, nel video calci pugni e la sua maglietta usata per pulire la lavagna. Il Napoli vince allo Juventus Stadium, una rete di culibali al novantesimo con sette ai campani di salire a meno uno dalla Juve a quattro gare dalla fine.